Sulle prime ho pensato, ma cosa stanno facendo? Che senso ha? Soprattutto su un piano della posizione politica in questa situazione, veramente non riuscivo a capire. Poi, quando ho letto più approfonditamente della notizia circa il fatto che la Juventus presenterà ricorso, ha presentato ricorso contro la squalifica della Curva Sud per una giornata in seguito ai core razzisti e di discriminazione territoriale intonati in Juventus-Napoli, ho capito meglio. Ho capito meglio, vi leggo tra poco, leggiamo insieme tra poco anche il comunicato della Juventus dell'avvocato Chiappero che ha presentato per conto della Juventus appunto come legale della Juve questo ricorso e capiamo tante cose, capiamo che la cosa effettivamente ha un senso. Perché se rimaniamo sul piano dei titoli, se ci fermiamo ai titoli, la Juventus presenta ricorso contro la squalifica per razzismo, la Juventus sostiene il razzismo, difende l'indifendibile e queste sono parole che ha usato appunto l'avvocato Chiappero. Perché sono indifendibili quei tifosi? Io l'ho detto più volte, sono indifendibili nel momento in cui reiteratamente fanno questi cori che danneggiano la Juventus perché comportano inevitabilmente una squalifica delle sanzioni più in generale. In questo caso una squalifica per un turno della curva ma in altre occasioni e anche in questa un'ammenda, sanzioni pecuniari, 10.000 euro e vi ho anche spiegato in un mio video recente quali sono gli ulteriori rischi che può correre la Juventus se questa storia non finisce. Cioè se questi tifosi o chiunque altro dell'Allianz Stadium continueranno a fare questi cori, avere questi atteggiamenti, la Juventus rischia sanzioni via via maggiori. Quindi non capivo perché intervenire indirettamente a difesa di queste persone, anche perché in questo modo li legittimi a dire noi vi proteggiamo, noi Juventus vi proteggiamo mentre voi ci danneggiate. Insomma la cosa sembrava assolutamente non avere senso. A questo punto, senza dire altro, leggiamo insieme le parole dell'avvocato della Juventus che ci spiega perché e in che contesto ha presentato questo ricorso, appunto la Juventus ha deciso di presentare ricorso alla squalifica. Ecco le parole dell'avvocato Chiappero. La contraddizione di questo ricorso è che non vi sarebbe ragione per difendere frasi e gesti che nessuno di noi vorrebbe vedere o sentire, ma la sensazione è pur sempre insopportabile a sua volta quando manifesta una disparità di trattamento tra Juventus e le altre società. Con un provvedimento che quasi modifica la norma del codice sportivo, il giudice che sempre ha riconosciuto la cosiddetta condizionale alla prima violazione sui cori razzisti è riuscito, con una interpretazione creativa, a non concederla. E così una ingiustizia processuale legittima a una doianza per un comportamento indifendibile. È forse ora di cambiare passo. Non credo che la responsabilità oggettiva per le società, per i cori razzisti e territoriali sia un buon metodo per punire ciò che davvero deve essere sanzionato. È ora di punire i singoli autori di comportamenti sbagliati. È ora di applicare la responsabilità individuale, almeno laddove la tecnologia la consente, come nel caso dell'Allianz Stadium. La colpa di qualcuno diventa la punizione per tutti e tra questi ci sono sicuramente degli innocenti. I tanti che facendo parte di quel settore non hanno cantato. I molti che se non fosse per pochi non avrebbero cantato. La società che paga per tutti coloro che non avrebbero mai voluto sentire certi cori vergognosi, che nessun moderno tifoso vuole più sentire. Dunque, l'avvocato che prepara il ricorso e che spera di far riaprire la curva per rimediare ad un errore del giudice sportivo non può che suggerire alla società di proseguire nell'uso delle moderne tecnologie, auspicando che anche la giustizia sportiva ne tenga conto. I moderni sistemici consentono di individuare chi mal si comporta all'interno dello stadio e grazie a questa possibilità si potrà individuare chi non è gradito nello stadio. E chi non è gradito non entrerà più, perché non è Juventus, che non è di nessuno ma di tutti, anche di coloro che nel settore che è stato sanzionato risparmiano e si privano di altro per vedere la loro squadra. Ed hanno il sacrosanto diritto di vederla. Chi non ha colpa non deve più pagare. Come vedete gli spunti sono tanti, ma partiamo assolutamente da quella riforma che si paventa, che si chiede in questa situazione, e cioè quella della soggettività della sanzione. Punire soltanto gli individui specificamente responsabili. È un fatto di progresso, è un fatto di adeguamento, anche di utilizzo delle nuove tecnologie, è un fatto di buonsenso in effetti. Non ha senso, e su questo sono sempre stato d'accordo, chiudere un'intera curva, comprendendo, quindi andando a punire anche gli innocenti, per colpa di pochi imbecilli. Che poi gli imbecilli siano il 10%, il 30%, il 70%, resta sempre una percentuale ampia o ridotta di persone che non hanno fatto nulla e pagano per gli altri. Quindi questa situazione va sicuramente superata, ma non va superata per il bene della Juventus, per il bene del calcio italiano. Perché in questo caso c'è la Juve, domani ci sarà la Fiorentina, a Roma, in Napoli. Può succedere a chiunque, e non parliamo soltanto di cori razzisti, parliamo di tutta una serie di atteggiamenti che, secondo il codice giustizia sportiva, ricadono direttamente sulle società in base alla responsabilità oggettiva. La responsabilità oggettiva va riformata. Se ci sono impianti come l'Allianz Stadium, che non da ieri, non dall'altro ieri, ma da anni, sono dotati di sistemi di videosorveglianza idonei ad individuare esattamente chi ha commesso una determinata violazione, il problema è di quegli impianti che questi sistemi non ce l'hanno. Cioè, se la Juve ce l'ha da anni, significa che è una cosa che da anni poteva prendere piede, ma non è stata imposta dalla FIGC. E qui siamo ad un punto nevralgico, ad un punto importante della questione, cioè di quanto la FIGC si occupi e si preoccupi del progresso del calcio italiano, anche su questo fronte. Perché non è stato previsto nulla di questo tipo? Perché non è stato imposto alle altre società di dotarsi di sistemi di videosorveglianza idonei ad individuare i responsabili di determinate violazioni? Perché in alcuni casi questi sistemi di videosorveglianza sono stati utili, quelli dell'Allianz Stadium, ma anche alla polizia, per individuare gli autori di fatti penalmente rilevanti, e non soltanto per la giustizia sportiva. Sono stati individuati e sono stati puniti. Così come è successo, proprio nel caso di Juventus-Napoli, per quel tifoso del Napoli che ha lanciato un seggiolino nel settore della Juventus. È stato individuato tramite le telecamere, altrimenti come facevi a sapere chi era stato? Quindi va sfruttata questa tecnologia, va sfruttata l'opportunità di chi è all'avanguardia, ma va anche adeguato tutto il resto del calcio, tutto il resto delle squadre. Così si può passare alla responsabilità soggettiva, per cui fossero anche mille tifosi che fanno una cosa sbagliata, vengono puniti solo loro mille, e cioè all'indomani dell'evento, quelle persone non possono per un turno, due turni o quanto volete voi, occupare il loro posto all'interno dello stadio, e tutti gli altri, abbonati o meno che siano, possono star seduti al loro posto. Tra l'altro in questo modo, in questo modo, fai maggiormente da deterrente, perché finché dieci saranno in grado di far punire mille, quei dieci saranno sostanzialmente impuniti, anzi, potranno divertirsi a far stare a casa anche tutti gli altri, e nascondendosi nella mischia, si sentiranno quasi onnipotenti. Questo è un discorso anche sociologico, più generale, mi rendo conto. Invece, se quei dieci sanno che se fanno qualcosa di male, solo loro dieci sanno a casa, forse la smettono, forse la smettono prima, perché sanno che le conseguenze delle loro azioni regadano direttamente su loro. Quindi, il discorso sarebbe importante da fare, ma non mi sembra che ci sia dibattito su questo. Poi, purtroppo, siamo in mano ai giornaletti che, in queste situazioni, fanno soltanto titoli ad effetto e godono per le sanzioni della Juventus e cercano comunque di buttar fango. Ho letto un articolo su Gazzetta, su questa questione, in cui il giornalista si è preso in giro, praticamente, il comunicato di Chiapero, intervallando con sue considerazioni, sottolineando come, in realtà, la scelta della Juve sia fondamentalmente da criticare. Ma sono sempre pronti a criticare la Juventus, ma mai nessuno che si mette un attimo fermo a dire questa questione è importante per lo sviluppo e la crescita del calcio italiano. Seguiamo la Juventus perché vuole portare avanti una mozione importante. No, questo non si può dire, perché l'unica cosa importante per molti è che la Juve paghi, anche per le colpe degli altri. Credo che sulla questione non ci sia altro da dire. Dobbiamo aspettare la decisione a questo punto dell'appello per quanto riguarda la squalifica della curva per capire se effettivamente la curva sarà squalificata o meno per Juventus-Genoa. Intanto Juventus-Genoa è sold out tranne la curva sud. Se poi aprono la curva, eventualmente ci saranno altri biglietti, ma non credo, perché comunque sono quasi tutti abbonati. Quindi vi terrò aggiornati su questo. Ovviamente per me resta fermo il fatto che chi fa cori e gesti e tiene condotte come quelle che abbiamo visto in questo caso è assolutamente da condannare all'interno della tifoseria juventina e va, secondo me, emarginato. Ci vediamo presto, ditemi la vostra, votate il sondaggio e scrivete i commenti e sempre Forza Juve. Grazie a tutti.